Ciao ragazzi, sono Pingo e vendo in questo mio nuovo video. Oggi, come potete notare dalle cuffie, torniamo su un horror, ovviamente, sulla serie degli horror suggeriti da voi. Ma con nuovo taglio e tutto, non posso dirvi che ovviamente di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, perché sennò vengo a cercare di picchi ogni classico come telecomando, che deve minacciarvi come sempre di più, perché più di 85% di voi guarda i miei video per non iscrivervi al canale. Finisce malissimo. Occhio, mi avete detto, anche con questa esperienza ci resterai secco. Ormai io ho dai due ai tre giorni di vita, quindi ottimo. E visto che la serie vi è piaciuto un botto con un ritorno clamoroso, io ho detto, ma perché non prenderci altri due infarti per fare visualizzazioni? Vai, oggi ci resto secco, definitivamente. Va bene, come sempre, vi lascio in descrizione il video originale e il canale da cui prendo i video, come sempre. Infarto, partiamo. Secondo me oggi lancio le cuffie. Ah! Sua madre... No, aspetta, 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 calma, calma, calma. Eh, sì. Questo chi cacchio è? Calma. Ciao. Ok, calmi. Calmi. Calmi, capiamo un attimo la stanza. Ok, c'è già una finestra del letto di me che finirà malissimo. Luce esotiche, letto che aveva più o meno mia nonna, e una tizia gnocca. Finisce malissimo. Ok. Io chiuderei la luce che almeno... Perfetto! Siamo fottuti due volte. Ragazzi? No, 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 no. Calmi, calmi, perché siamo appena partiti, appena partiti, io c'ho già la pelle d'oca. Non è un buon segno. Non è un buon segno. Se succede come l'ultima volta, qua salto due volte. Io ho sentito un rumore, ho paura a girarmi. Questa qua sogna roba strana. No, non c'è niente di me. Porca mare. Ma che è la radio? Radio Maria è partita. Ah no, la televisione. Ammazza, non l'avevo neanche notata. Vedete voi che ben messo che sono? Ottimo. Vieni? Buonanotte. Capita anche a me che si accende la televisione in casa, ma tanto so che la mia casa ormai è posseduta, quindi non ci faccio manco caso. Fatemi sapere voi nei commenti se anche la vostra casa è posseduta. Io non ci vedo niente, perché io c'ho mille fari in faccia e qua è un buio pazzesco. In più c'ho un dolore agli occhi. Non riesco a capire che cacchio sta succedendo, ragazzi. Non è che alla fine il mostro siamo noi e rido? Io non mi giro, eh. Ah, porca p... Ma va fan... Ma va fan... Cristo. Che è successo? Ho perso le cuffie... Ma va... Naggia. Ma sì, fai gli orro. Tanto, tanto... È divertimento. Probabilmente voi vedete questo video che io sono in vacanza. Ma che bello! Che cacchio succede? Cosa è sta luce rossa? Cosa c'è dietro di me? Satana! No, non c'è nessuno. Bene! Ottimo. Partiamo. Siamo... Ah! Aspetta, abbasso un po' perché mi sto spaccando i timpani. Che cacchio è successo? Oh, io... No, 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 no. No, oggi finisce male. Aspetta, è troppo basso. Tonna mia, ragazzi. È bello che lei torna a dormire... Lei torna a dormire... Ma cosa torna a dormire? C'è appena stata Satana sotto alle... Mannaggia. Questo sono palesemente io che non ho voglia di alzarmi la mattina e dormo. Bene! Oggi finisce malissimo, ve l'ho già detto. Siamo a due minuti di video. Se ne sono sette. Questo video dura sedici. Ma buongiorno! Ma che cacchio è Alien? Ma... Amica, secondo me fa una brutta fine. Amica? Amica... Adesso si gira e tira un urlo e io urlo due volte. Occio! Madonna mia! Accendi la luce! Brava! Uuuuh! Io resterei con la luce accesa a questo punto, eh? Io te lo dico. Io non mi giro. Poi tanto so già che il mostro è dietro la mia schiena e io non mi giro. Con il cacchio che mi giro. Tanto mi arriverà uno di quei jumpscare. Perché questo video diventa non virale su TikTok, diventa virale su WhatsApp. Come? Non lo so. Nel dubbio fate passare questo video in cui mi spavento. non aprire l'armadio. E a tutti i vostri amici su WhatsApp, Telegram, Instagram, telecomando. 3, 2, 1, jumpscare! Perché so che è dietro di me... Dai, facciamo una cosa rapida, in dolore. 3, 2, 1... Ehi! Niente. Ok. Madonna mia. Mi suggeri, dai nei commenti qualche gioco horror da poter portare adesso da settembre, così, che potrebbe essere divertente tornare a una nuova serie horror che non ne porta tanto tempo, visto che Medoscare era una serie, chi non la conosce va da recuperarla qua sopra immediatamente, in cui la prima serie poi del canale, seria quasi. Sicuramente a tema horror. Mi sono cagato addosso, era il vetro. Che potrebbe essere divertente. Ho già pronto una demo per i prossimi giorni, ho sentito un rumore inquietante. Un demo di un gioco abbastanza horror che potrebbe essere divertente portare insieme. Cerco di distrarmi nel frattempo, chiedo scusa. No, sotto al letto, no. E io non posso chinarmi, che sfortuna! Adesso la portano via, io urlo. 3, 2, 1, via! No. Ok. Amica, fai una cosa. Mettiti sotto le coperte e il mostro non ti prende. Non sotto al... Ma no sotto al letto! Sotto al letto c'è il mostro! Lei è il mostro, in realtà. No, voi siete scemi! E questa chi cacchio è? Sì, diventiamo noi il mostro veramente! Ma che cacchio! Bei piedi! No, ma nel senso, cioè, mi banano da YouTube. Scusate, stavo andando avanti per due, a caso. Sì, comunque il letto potrei metterlo in un'altra direzione, io te lo dico. Ah, c'ha il coltello in mano! Ma che bello! Sì, per... Sì, perché comunque un serial killer non guarda sotto al letto, no? Per vedere se ti trova. Ti guarda dietro la tenda che c'è un calorie di fare un talmosifone, volete chiamarlo, e non guarda sotto al letto, dai! È palese, c'è uno di quei jumps che io lancio le cuffie. E niente! Amica mi sa che è... Ciao! Non riuscite a scappare, grande! Scusa, e noi? Ci teletrasportiamo? Ah, finì! Ah! Ok! Cioè c'era più... Non ho capito! Vabbè ragazzi, che dirvi? Comunque il nostro cagamento settimanale l'abbiamo fatto... Pensavo peggio, pensavo molto peggio, anche se sinceramente mi fa male il costato, non è un buon segno. I vicini hanno sbattuto la porta, oggi finisce male. Vabbè ragazzi, che dirvi? Like, commenti, iscrizione, fatemi sapere bene i commenti. Il prossimo horror che vorreste vedere, io andrò a registrarne un paio per guadagnare tempo, perché andrò via appunto un paio di giorni, quindi se no restate senza video. E non è una bella cosa? E che dirvi altro? Vi appunto lasciate un like, commenti, iscrivetevi al canale, di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube, e anche su TikTok non posso piantare, non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... Ok, comunque mi sono cagato più sotto, prima che ero sopra, che quando sono stato sotto al letto. Ma va bene, era più divertente, saremmo noi il serial killer finale. D'accordo. Ciao e vado a registrare subito un altro, quindi mi vedrete vestito uguale. Dai!